il tutorial per realizzare il disegno che avevamo iniziato in classe ho visto insomma c'è stata un po' di difficoltà allora parto proprio dall'inizio, dalla squadratura perché ho visto che anche alcuni di voi hanno avuto difficoltà purtroppo non l'hanno fatta quando hanno fatto la scuola media quindi iniziamo con la squadratura queste sono le dimensioni del vostro foglio allora il primo passaggio per la squadratura è quello di disegnare le diagonali quindi io con il righello quello più lungo questo è un programma di disegno tridimensionale ma va bene anche per fare queste cose qui punto il righello diciamo lungo le diagonali del rettangolo che è il foglio vostro e traccio appunto le diagonali adesso io cercherò di accelerare un po' il tutto senza non evitare di fare questo tutorial troppo lungo e impossibile poi da seguire quindi tracciate le diagonali adesso con il compasso questa la togliamo con il compasso io adesso vedrete che segno delle circonferenze in realtà non è necessario fare le circonferenze basta segnare gli angoli apro il compasso di 9 cm e prendo la misura 9 cm segno i punti nei quali il compasso diciamo l'arco gli archi che segnate con il compasso incrociano le diagonali e segno questi punti dopodiché nuovamente il compasso sempre aperto di 9 cm lo punto in questi punti che ho individuato e vado a determinare quelli che sono gli altri punti nella parte terminale delle diagonali eccoci qua 1, 2 3 e 4 e quello che vado a fare è segnare questi punti nuovamente l'intersezione che c'è tra le linee del mio compasso e questi punti vi ripeto non è necessario fare le circonferenze basta semplicemente segnare un archetto leggero ricordatevi che queste sono linee di costruzione quindi si costruiscono con matite dure, leggere poi eventualmente dopo finito tutto il disegno si possono evidenziare l'ultimo passaggio sarà quello di unire i quattro vertici successivamente queste sia le diagonali tanto le diagonali che eventualmente no possiamo lasciare anzi le diagonali le possiamo lasciare perché ci servono per fare l'altro passaggio possiamo cancellare intanto i punti chiaramente è inutile anche cancellarli quello che possiamo fare poi è andare a prendere le nostre belle squadrette in particolare per esempio quella 45 puntarla qui utilizzando il foglio diciamo servendoci del foglio ruotare l'altra quella 30-60 farla passare per il punto nel quale praticamente si incrociano le due diagonali cioè il centro del nostro foglio e tracciare una retta verticale primo passaggio ok? io mi sposto di qua adesso vedrete una parte del disegno che è già costruita le linee tratteggiate non vanno tratteggiate le sto segnando io tratteggiate perché mi è utile farvi vedere le linee poi quelle con cui disegno che sono quelle dell'oggetto un'altra cosa qui adesso vi faccio vedere la scansione che ho fatto perché è utile farvela vedere quindi noi siamo arrivati a questo punto io ho disegnato questa retta qui verticale l'altra retta che mi interessa disegnare è praticamente l'altra retta verticale cioè dividere lo spazio nuovamente in due adesso casualmente questo spazio passa per i punti che avevo preso in precedenza che io erroneamente vi ho detto di cancellare ma che in realtà ci possono essere nuovamente utili perché effettivamente marcano l'altra metà dello spazio che dobbiamo andare a segnare e in effetti se vedete questi due punti che io ho preso ce li ritroviamo qui e quindi io li posso utilizzare così come ho utilizzato la squadra in precedenza la continuo a far scorrere fino a raggiungere o a incrociare quei due punti che ricordo distano dal centro a 9 cm e tracciare la seconda linea verticale e così abbiamo impostato la prima parte del disegno successivamente queste diagonali potranno essere cancellate questo è quello che vi dovreste ritrovare diciamo come base preparatoria l'altro input istruzione vi faccio vedere il disegno era quello di tracciare una linea orizzontale staccata dalla squadratura di 0,7 cm e che tutta questa figura rientrava in 20 cm ed è quello che andremo a fare ora quindi quello che faccio io sarà innanzitutto prendermi la misura dei 0,7 cm dal punto della squadratura quindi 0,7 cm sono questi e segno un puntino vado a fare lo stesso con la linea centrale segno quest'altro punto e traccio una linea orizzontale che è questa che poi cancellerò così che rimane quella tratteggiata quindi questa qui è la linea orizzontale che vado a tracciare vedete che io sono uscito fuori non c'è problema va bene sono linea di costruzione ce le ritroviamo in ogni caso cancello questa qui piena e vi lascio quella tratteggiata l'altra informazione è che tutta la struttura tutta la figura è contenuta in 20 cm quindi quello che vado a fare è lo stesso procedimento che ho fatto prima quindi prendo i miei 20 cm mi sposto su quest'altra retta prendo nuovamente 20 cm li segno con un puntino e vado a tracciare la seconda retta quella che vedete qui sotto ok? quindi praticamente quello che ho fatto è stato ho definito il campo all'interno del quale io lavoro anche qua vi simulo l'operazione con la squadra dopo di che la linea ed eccoci qua abbiamo definito quello che è il nostro campo ci siete? speriamo di sì allora dopo di che prendo la figura io devo disegnare un quadrato 5,3 x 5,3 un rettangolo di altezza 3,8 poi la larghezza la vedremo dopo un altro rettangolo sempre 3,8 e un trapezio isoscele alto 7,1 questo diciamo essendo l'ultimo è la rimanenza sicuramente di quello che vado a disegnare allora a me sinceramente costa molta meno fatica fare intanto una divisione proprio una scansione di quelli che sono gli spazi in verticale perché quanto meno io metto ordine nelle operazioni che devo fare allora io so che devo mettere un quadrato di 5,3 x 5,3 misuro 5,3 e metto un puntino eccolo qua dopo di che deve essere 3,8 misuro 3,8 e metto un altro puntino deve essere un altro 3,8 questa volta la copio e metto quest'altro puntino va da sé che tutto il resto sarà l'altezza del trapezio quindi in questo caso ho fatto diciamo rapidamente successivamente che cosa vado a fare vado a prendere la mia squadra insieme all'altra squadra volendo potete usare anche il righello in questo caso perché vi aiuta comunque in ogni caso vi fa da binario la squadra la metto qui sul bordo del foglio prendo l'altra squadra mi colloco all'altezza dei 5,3 e traccio una linea orizzontale sposto la squadra quindi uso la squadra a 45 come binario sposto la squadra e disegno l'altra linea orizzontale quella che sarà l'altezza del rettangolo sposto l'altra squadra e disegno l'altra linea orizzontale questo mi è utile per avere una scansione di quello che è lo spazio che andrò a utilizzare metto metto le linee in tratteggiato per farvi capire che queste sono vanno disegnate leggere le quote per il momento le sposto così che non impiccino con il disegno le lasciamo qua tanto si vedono e procedo con il disegno la cosa che vi avevo detto io di fare era disegnare un segmento di 5,3 baricentrico cioè nel senso centrato su questa linea che è il nostro asse di simmetria perché noi assumiamo che la statuetta della venere sia più o meno simmetrica adesso io quello che ho fatto è stato prendere 2,7 cm partendo dal centro 2,7 cm da questo lato e 2,6 cm di conseguenza da quest'altro lato verrà leggermente leggermente diciamo non proprio centrata ma insomma l'occhio nudo non vede proprio questo millimetro di scarto non vi preoccupate possiamo stare tranquilli su questo e lo facciamo chiaramente soltanto per il quadrato perché le altre figure mi sembra siano divisibili a metà mi pare sì perché 9,2 è divisibile 10,4 è divisibile 8,8 è divisibile quindi soltanto il quadrato sarà leggermente decentrato ma insomma non lo noterà nessuno sicuramente il professore non lo noterà allora come si disegna un quadrato io adesso mi metto in un'altra parte del foglio per farvi vedere come si disegna un quadrato allora disegno i miei 5,3 cm questo è il mio lato AB l'altra cosa che abbiamo detto in classe è che per disegnare un quadrato cioè per far sì un quadrato ma anche un rettangolo in questo caso per far sì che sia certo che questo lato sia effettivamente ortogonale quindi conformi un angolo di 90 gradi quindi il lato AB e il lato diciamo AD ok sia perfettamente ortogonale devo simulare devo trasformare diciamo devo far finta che questo lato AD sia all'altezza di un triangolo equilatero e qua questa cosa è stato scandalo perché ragazzi le regole le stabiliamo noi è questo il principio d'accordo cioè sono astuzie che noi andiamo a trovare mi prolungo questo lato perché tanto qui io già ce l'ho prolungato quello che ho fatto è stato quindi ipotizzare che il punto A anzi mettiamo proprio il punto il punto A sia il punto medio di uno dei cateti del triangolo equilatero e che questo triangolo equilatero abbia lato 2 cm quindi vado a disegnare una circonferenza che certamente non è questa vado con il compasso a disegnare una circonferenza di 2 cm che mi individua due punti 1 e 2 che io appunto in classe ho chiamato punto 1 punto 1 e punto 2 questi non fanno parte della figura finale però ci servono per costruirla questo è il punto 2 dopodiché che cosa succede? succede che se io apro da 1 puntando su 2 e faccio la stessa cosa dall'altra parte quindi punto in 2 apro di 2 cm verso 1 vado ad individuare un punto adesso nemmeno a farlo apposta vado ad individuare un punto qui se volete potete chiamare 3 ma non serve che è perfettamente allineato con A quindi sicuramente la retta che vado a disegnare sarà una retta perpendicolare a B ad A B ok? quindi sicuramente la retta A D sarà perpendicolare con A B dopodiché il passaggio finale scordatevi questo punto che avete segnato quello è il punto del triangolo che avete utilizzato per costruirvi questa retta non vi serve più quello che dovete fare è misurare anche qua con il righello chiaramente 5,3 cm che non sono questi lo facciamo così misurarvi con il righello con la squadra 5,3 cm eccoli qua e mettere la lettera in questo caso la D ok? 5,3 cm ci siete? spero di sì successivamente come si disegnano gli altri due lati? si deve riutilizzare il compasso quindi si punta il compasso in A si apre in B non serve a nulla perché individuo D dovete puntarlo in B aprirlo in A e tracciare un arco fate la stessa cosa quindi stessa apertura 5,3 cm aprite in D puntate in A e l'intersezione tra questi due archi individuerà un altro punto che nemmeno a farla apposta sarà sicuramente sulla stessa alla stessa altezza di D e soprattutto alla stessa altezza di B e quindi il vostro quadrato successivamente notate che io faccio le linee anche più lunghe ecco qui per esempio non mi ha preso il punto bene eccolo qua ok notate che qui non è un caso che io abbia prolungato queste linee perché sono linee di costruzione le posso fare più lunghe quello che conta è che dopo ripassi con l'HB ma alla fine del disegno quando ho impostato tutto ripassi il mio disegno con l'HB e vado a determinare il quadrato che vi ripeto è di 5,3 cm ok quindi adesso senza che ripeto tutto il passaggio torno qui e lo disegno direttamente così ci sbrighiamo 5,3 cm questo è il primo lato e questi sono gli altri due e direi che ci siamo questi li mettiamo tutti come livello 1 così abbiamo le linee rosse ok qua c'è D va da sé che l'altro lato sarà l'altro punto sarà C arriviamo al rettangolo nel rettangolo stesso discorso io devo partire dal centro e misurare il primo rettangolo abbiamo detto che è largo 9,2 cm 9,2 diviso 2 fa 4,5 4,6 allora 4,6 potete farlo con il compasso potete farlo utilizzando il compasso come volete insomma potete misurare direttamente con la squadra come volete voi come preferite voi potete misurarlo direttamente ecco misuriamolo direttamente quindi misuro 4,6 cm qui quindi 4,6 misurati e li misuro chiaramente anche dall'altra parte ok allora possiamo aggiungere eventualmente delle lettere le lettere sono utili perché non tanto in questo tipo di costruzione in realtà anzi in questo tipo di costruzione ci aiutano meno ma in altri tipi di costruzione le lettere sono indispensabili a,b,c,d,e e f disegnerò soltanto il primo rettangolo l'altro va da sé che è più largo ma insomma la modalità è la stessa e traccio chiaramente una linea che unisce questi due punti questo è il primo lato del mio rettangolo ora chiaramente la logica nel costruire il rettangolo sarà la stessa che abbiamo applicato per il quadrato quindi fondamentalmente torno qui io ho il mio lato di 9.2 ed è ed ho chiaramente la linea che avevo già disegnato in precedenza adesso per disegnare faccio finta che il lato che il punto E sia il punto medio di un triangolo equilatero di due centimetri e vado a tracciare un arco scusate perdonatemi misuro i due centimetri come ho fatto prima quindi non è necessario usare il compasso misuro i due centimetri come ho fatto prima eccoli qua io dico due potrebbero essere tre cioè la misura che volete una misura comoda chiaramente non 2,24 che poi non riuscite a riprodurla dall'altra parte nel senso è questo successivamente intendo questi due punti come i due punti i due vertici di un triangolo equilatero traccio gli archi quindi prima puntando in uno e poi puntando l'altro e dopodiché dal punto E traccio una linea che sarà sicuramente perpendicolare al lato EF d'accordo? in questo caso questa linea dovrà essere lunga abbiamo detto 3,8 cm tra l'altro io qui già ho i 3,8 quindi l'abbiamo già disegnati quindi questo punto sarà 3,8 allora quindi a 3,8 perdonatemi questo punto in realtà è qua eccolo qua ok e a 3,8 io potrò avendoci già la linea disegnata potrò disegnare la rimanenza successivamente l'altro passaggio sarà quello di spostarsi dall'altra parte e unire i lati quindi misurare qui 9,2 e chiudere il nostro rettangolo e ci siamo ok questo è il rettangolo l'altro chiaramente è la stessa procedura soltanto più grande più largo arriviamo al trapezio quindi anzi facciamo così lo disegno direttamente qui me lo copio qui in basso abbiamo detto che questo deve essere invece in realtà 10,4 10,4 facciamo così sono 5,2 e qui dopo di che quello che vado a fare è unire quest'altro lato 5,2 faccio così rapidamente sempre layer 1 ok arriviamo al nostro trapezio il nostro trapezio abbiamo detto che ha la base maggiore la base maggiore di 8,8 e la base minore di 4,4 quindi io quello che vado a fare è misurarmi il lato qui 8,8 va da sé che è 4,4 quindi io prendo le misure di 4,4 metto il punto ho preso il punto male chiaramente 4,4 da questa parte chiaramente sposto la squadra per prendere la misura poi dopo dall'altra parte non lo farò in questo caso faccio prima fare così per accelerare il vostro tutorial e vado a trovare questi due punti che potete chiamare potete assegnargli delle altre lettere adesso come si costruisce un trapezio va da sé che avendo già tracciato queste linee qua l'unico modo il modo più semplice e più diretto sarà quello di realizzare di prendere delle misure qui che siano 2,2 da un lato 2,2 dall'altro e in questo caso avete creato diciamo tutti i vertici del vostro trapezio viceversa come si realizza sapendo qual è la base sapendo qual è l'altezza io disegno io traccio un segmento per l'altezza che può essere fatto tranquillamente con il compasso quindi apro il compasso di 7,1 e vado a trovarmi il punto nel quale 7,1 si intersega con trovo il punto qui praticamente successivamente che cosa vado a fare vado a fare la stessa costruzione che ho fatto quindi costruisco un quadrato di 7,1 per 7,1 e successivamente prendo la misura sapendo che è isoscele prendo la misura della base minore e vado a disegnarmi il mio trapezio tutto estremamente semplice con questo ho concluso ragazzi questo diciamo è l'esercizio che vi ha portato fatto in classe per la volta prossima quando saremo in classe questa parte qui diciamo che avete realizzato a casa la rifaremo in classe e cominceremo su questa parte qui a disegnare la nostra venere buon lavoro a faremo in classe un'esercizio a faremo in classe un'esercizio